I temi principali sono essenzialmente tre. Il primo, la necessità di vaccinare 450.000 marchigiani nel mese di gennaio. È un'opera imponente, dobbiamo vaccinare 16.000 persone al giorno perché con le nuove norme per cui la copertura vaccinale si esaurisce dopo quattro mesi alla seconda dose c'è questa emergenza. Dobbiamo potenziare tutte le linee vaccinali e vaccinare 16.000 persone al giorno per raggiungere la copertura totale con la terza dose di tutte le persone che devono essere vaccinate. Allestiremo anche uno slot con dei funzionari chiamati a rispondere anche della necessità di riprogrammare le vaccinazioni. Le persone che si sono prenotate, che sono state spalmate dal sistema poste a febbraio, marzo e addirittura ad aprire dovranno tutte essere riconvertite per la vaccinazione di gennaio. E quindi chi non dovesse essere contattato, non certo oggi o domani, ma nella prossima settimana, nei prossimi dieci giorni dall'Asur, ecco deve chiamare il numero verde e chiedere la ricollocazione a gennaio. Quindi diciamo che il sistema è imponente, vaccinare 450.000 persone, che non è una passeggiata, lo voglio sottolineare, nessuna regione ha un programma così imponente in un mese. Il secondo tema è la riapertura in sicurezza delle scuole. Come sapete il governo ieri ha emanato un decreto legge, deve essere ancora pubblicato in gazzetta ufficiale, io non l'ho visto ancora, che prevede però delle misure importanti, cioè le persone vaccinate, ancorché positive se non hanno sintomi, non sono sottoposte sostanzialmente al contact tracing, il che significa che l'area di verifica per la sanità pubblica interesserà le persone disabili, le persone che hanno delle patologie e le persone non vaccinate. Quindi stiamo allestendo sostanzialmente un meccanismo per un triage attraverso i tamponi per gli studenti, perché noi non possiamo non garantire le lezioni frontali. Come sapete la Regione Marche ha organizzato e potenzierà lo strumento della purificazione dell'aria nelle aule. Questo esperimento che noi abbiamo avviato un anno fa su proposta dell'assessore Latini e del collega Baldelli ha evidenziato un elemento straordinariamente importante, cioè nelle scuole dove c'è il purificatore d'aria non si sono verificati i casi, c'è stato un solo caso positivo e la positività non si è trasmessa agli altri studenti. Quindi stiamo lavorando in quella direzione e questo meccanismo delle Marche è stato preso un po' in considerazione a livello internazionale.